Ciao a tutti, vi presento ora il mio progetto, un robot rover a due ruote motrici programmato interamente con Arduino, con una struttura in legno e plastica. Questo robot ha due modalità, una manuale e un'automatica, e si passa da una all'altra utilizzando un dispositivo Android collegato via Bluetooth al robot. Ma andiamo a vedere nel funzionamento, il robot si accende tramite due interruttori posti ai lati, uno per Arduino e uno per la MotorShield, e il sensore per rilevare la distanza si muove tramite due mini servomotori, grazie ai quali esso ha tre gradi di libertà. Una volta acceso, esso si posiziona, come abbiamo visto, in modo tale da guardare in avanti, e come ho detto ho deciso di controllarlo tramite Bluetooth. Ho deciso di utilizzare un'applicazione Android che si può scaricare gratuitamente dallo store, l'applicazione in questione è l'Arduino Bluetooth controller, molto versatile e facilmente adattabile a vari tipi di progetto. Scegliamo la modalità manuale, che ci permetterà di comandarla tramite un controller in stile PlayStation, e appunto come ora vedremo, nella modalità manuale i sensori di ostacolo non rilevano nulla, infatti vediamo che l'ostacolo frontale non è rilevato. Passiamo ora alla modalità automatica, vediamo appunto come si può passare da una all'altra tramite sempre l'applicazione. Per questa modalità vengono sfruttati numerosi sensori. Con il sensore ultrasonic HCS04 rilevo la distanza frontale. Quando viene rilevato un ostacolo si accende un LED blu super bright posto sulla parte posteriore del robot, e poi grazie ad uno dei due servomotori viene deciso automaticamente da che parte girarsi poiché il robot ha la possibilità di guardarsi intorno. E grazie poi a tre sensori infrarossi rivolti verso il pavimento si possono individuare bordi come scalini oppure un'area bianco e nera ad esempio. Un'altra interessante funzionalità di questa applicazione riguarda la modalità manuale e infatti vediamo come si possa sfruttare l'accelerometro del dispositivo Android per comandare il nostro robot. Dopo aver appunto infatti settato alcuni movimenti si può dirigere il robot semplicemente inclinando il dispositivo. Nella parte superiore del robot ho posizionato un display retroilluminato nel quale si possono leggere alcuni dati tra cui la temperatura, il livello di luce e altri frasi tra cui l'indirizzo della pagina web dove potete trovare tutte le informazioni e il codice di questo progetto e che quindi vi invito a visitare. Nella parte anteriore del robot ho posizionato 5 led bianchi SuperDry che si accendono quando il livello di luce è basso e funziona da fari. Infatti abbiamo visto come la luce è alta e quindi si può comandare facilmente in modalità manuale e anche al buio. Lo sfarfaglio della luce è dato dal video e quindi normalmente non lo vediamo questo effetto. Ciascun led si accende ogni 3 millisecondi e grazie alla persistenza della visione l'occhio umano non percepisce questo passaggio e sembrano infatti accesi tutti e 5 contemporaneamente. Ho notato che spesso negli angoli il robot si bloccava andando prima a sinistra poi a destra quindi ho pensato di non mettere una rotazione fissa ma casuale. Vediamo infatti che il robot ruota per 200 millisecondi più un tempo casuale compreso tra 0 e 500 millisecondi. In questo modo essendoci una rotazione casuale è quasi impossibile che si blocchi in un angolo. Vediamo ancora la luce che fanno i 5 led frontali. Come vediamo è sufficientemente luminoso e quindi si riesce a pilotare tranquillamente. Un'altra funzionalità nella modalità automatica è quella di controllare la distanza dai muri laterali in modo tale da impedire al robot di attaccarcisi. Ho notato infatti che la geometria del robot, il modo in cui era costruito, impediva la rotazione una volta che era avvenuto il contatto tra robot e muro. Quindi ho aggiunto due sensori infrarossi che controllavano la distanza dei muri e una volta che la distanza rilevata era di circa 5 centimetri la velocità del motore opposto al sensore che aveva rilevato l'ostacolo del muro, diminuiva la velocità in modo tale da far girare più un motore dell'altro e allontanando quindi il robot dal muro. Il led blu posteriore è posizionato sotto un tappino di plastica con una plastica spessa e opaca in modo tale da sparpagliare la luce emanata dal led su tutta la superficie della plastica, cosa che senza questa plastica non avverrebbe, in modo tale da far sembrare questa struttura un lampioncino quasi. Diamo adesso uno sguardo generale al robot, vediamo appunto il led blu posto sotto il pezzettino di plastica che dicevo, il display retroilluminato blu, il sensore di distanza, vediamo l'interruttore, i due sensori infrarossi per i bordi, il tutto, la struttura del robot è in legno e plastica colorato con uno smalto blu brillante, vediamo ancora i sensori per i muri infrarossi, vari fili, tanti forse, i sensori per la temperatura e la luce e vediamo adesso l'interno. Allora si può vedere la basetta mille fori con i 5 led per i fari frontali, con le resistenze ai fili, il modulo bluetooth, appunto vediamo ancora il sensore per i muri laterali infrarosso, vediamo adesso sempre all'interno per quanto riguarda la parte posteriore, ci saranno sicuro ecco infatti un sacco di fili, tantissimi, un po' di confusione. Qui troviamo l'hardware principale, diciamo, vediamo appunto, si intravede la motor shield per i motori, appunto, Arduino sotto i mille fili, vediamo appunto poi la basetta mille fori con il led posteriore blu e i sensori per temperatura e luce. Vediamo ancora un sacco di fili, un po' di confusione, si potrebbe fare di meglio per sistemare, però il tutto è funzionale. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il mio progetto commentate, visitate il mio sito web che vi metterò in descrizione, dove troverete anche il codice del robot, altre informazioni, notizie, video, progettini, soprattutto per quello che riguarda Arduino collegato alla robotica e non solo. E se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao a tutti e grazie dell'attenzione. Grazie a tutti.